Il flusso migratorio attraverso la rotta balcanica è ripreso in modo consistente nella nostra regione a confermare questa teoria e i recenti arrivi di migranti a Trieste e Gorizia ma anche i dati raccolti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che parlano di 446 stranieri irregolari rintracciati nel solo 2018 nelle zone di confine sloveno. Nel corso dei primi cinque mesi del 2019 i migranti irregolari in Friuli Venezia Giulia hanno già toccato quota 652 a cui vanno aggiunte le 200 persone rintracciate dalle forze dell'ordine nelle scorse 24 ore. L'ultimo ritrovamento risala questa mattina dove un gruppo di 18 migranti è stato rintracciato dagli agenti della polizia di frontiera a Sandorligo della Valle vicino al confine con la Slovenia in zona mattonaia. I migranti sono stati accompagnati al centro di fotosegnalamento della caserma di Fernetti di Trieste per le operazioni di identificazione. Altri 80 sono stati rintracciati a Gorizia. Solo ieri mattina polizie e carabinieri avevano individuato sempre a Trieste e nello stesso comune altri 100 migranti provenienti per lo più dal Pakistan mentre camminavano in piccoli gruppetti vicino a zone boschive. Persone che raggiungono il nostro paese per richiedere protezione internazionale ma che spesso compiono un viaggio irregolare per arginare l'ingresso di migranti dal 1 luglio lungo il confine con la Slovenia prenderanno il via dei controlli congiunti delle forze dell'ordine italiane e slovene. Sono estremamente preoccupato per quanto sta accadendo, osserva Fedriga a seguito di un confronto con il Consolato Generale della Slovenia malgrado l'enorme sforzo del governo che ha disposto il potenziamento di organico delle forze dell'ordine e un maggior presidio del territorio la situazione non può infatti risolversi se tutti i paesi coinvolti non offrono il loro contributo. Se le criticità lungo la rotta balcanica non dovessero essere superate in breve tempo queste porteranno il Friuli Venezia Giulia a valutare di richiedere al governo la sospensione di Schengen.